Siamo qui con Franco Frattini, già Ministro degli Affari Esteri, Presidente della SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e Program Leader del corso di laurea magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche. Presidente, secondo lei l'Europa come può aiutare i giovani? È chiaro che per tutti i ragazzi che aspirano a inserirsi nel mondo del lavoro l'Europa è una cornice necessaria. Voi ragazzi vi troverete sempre l'Europa di mezzo, qualcuno dice tra i piedi, qualcuno dice fortunatamente avremo sempre l'Europa che ci aiuterà. L'Europa ha ad esempio promosso negli anni quello strumento formidabile che si chiama Erasmus che ha consentito a ragazzi e ragazze che ormai sono pienamente nel mondo del lavoro e ad altri che non lo sono, ad esempio la generazione di mia figlia che ha finito ora l'università, di studiare in un altro paese. Allora l'Europa che cosa può fare? Potenziare questi strumenti per l'educazione precoce dei giovani, non soltanto gli universitari, non soltanto i master ma a partire proprio dai ragazzi dei licei. L'altra cosa che l'Europa certamente deve fare è eliminare gli ostacoli che ci sono quando ad esempio un ragazzo italiano si vuole inserire nel mondo del lavoro belga o olandese, però a questo punto una cosa la dovete fare voi, cioè i ragazzi, conoscere lingue alla perfezione. Lo studio delle lingue, lo studio dei rapporti internazionali sono precondizioni per poi navigare in quel percorso a ostacoli. Secondo lei quali politiche nazionali e internazionali si potrebbero fare per i giovani? Le politiche nazionali se ne parla da tanto. Io credo che l'Italia debba recuperare quel gap che ci divide da tanti altri paesi sulle risorse che sono messe per l'educazione, quindi la riforma della scuola, dare all'università la funzione di preparare i migliori. La cosa fondamentale ragazzi è il merito, qui nel mondo di oggi prevalgono i più bravi, non prevalgono né le ragazze perché c'è la quota rosa, né i ragazzi perché sono giovani, prevalgono quelli che meritano di più. All'estero è così e quindi anche in Italia deve essere così. L'ultima domanda, quale consiglio, messaggio si sente di dare alla generazione proteo e ai giovani che sono riuniti oggi nell'auditorium della Lean Campus University? Io il messaggio che mi sento di dare è innanzitutto ragazzi credete a quello che fate, la cosa peggiore di tutte è che si scelga una facoltà perché ce lo consiglia qualcuno, che si abbia un'idea senza capire dove quest'idea va a parare. Allora se io scelgo un percorso universitario, è capitato a me per primo, bisogna essere assolutamente sicuri di dove si va a finire. Il mio consiglio è di crederci, di rimboccarvi le maniche tutte e tutti e di andare avanti in questa maniera. Bene, la ringrazio. Grazie a voi.